Si può vivere senza di te. Dicono che la nostra generazione non ne abbia. Dicono che per guardare al futuro ci voglia immaginazione. Che per immaginare ci voglia coraggio. Che per avere coraggio ci voglia fiducia. Dicono che per avere fiducia ci voglia sicurezza. Che per sentirsi sicuri ci voglia il denaro. Dicono. Ma c'è un sistema che ti permette di investire nel tuo futuro. Dare un nome ai tuoi bisogni ed essere premiato perché sai guardare avanti. Dicono che in questo modo vivere senza contanti si può. E lo dico anch'io. Usa la carta per ogni tuo acquisto. Ti conviene sempre. Scarica l'app, partecipa e vinci. Info su cashlesscity.it Senza contanti. Bergamo e avanti.